Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a fare l'unboxing di un prodotto che almeno sulla carta ha un rapporto qualità-prezzo veramente interessante stiamo parlando del Wiko Iggy e ora andiamo a vedere cosa contiene la confezione di questo Wiko Iggy come vedete la confezione presenta il telefono nella parte frontale qua sul lato destro le principali caratteristiche tecniche dietro adesivo con i vari codici nella parte sinistra invece tante scritte che ricordano il modello che si chiama Iggy appunto ma andiamo ad aprirlo e vediamo cosa contiene allora davanti a noi ci spunta subito all'occhio il device che andiamo a togliere da questa plastichina eccolo qua, lo mettiamo da parte, lo andremo a vedere un po' successivamente poi troviamo il cavetto USB, micro USB con l'azione bianca anche perché il nostro telefono è la versione bianca vedrete poi nell'accensione che ci sono varie colorazioni disponibili al lancio poi troviamo le cuffiette con una scarsa qualità di fattura poi il caricatore da parete con usb e la batteria da 1600 mAh seguita poi dai vari manuali di istruzioni che nessuno mai leggerà allora mettiamo da parte tutto quanto e andiamo a vedere in modo un po' più dettagliato questo telefono ve lo faccio vedere semplicemente per quanto riguarda il design sul lato sinistro troviamo il bilanciere del volume qui la capsula auriculare, i vari sensori e la fotocamera anteriore display è un 4.5 pollici sulla destra il tasto di accensione e spegnimento sotto invece il microfono per le chiamate dietro qua posto centralmente lo speaker di sistema qui la fotocamera principale con il flash e nella parte superiore abbiamo l'ingresso micro usb e il jack delle cuffie dunque non mi soffermerei più di tanto in questo unboxing perché lo andiamo a provare e vi diremo approfonditamente nella review come si comporta questo smartphone vi anticipo il prezzo 99 euro il prezzo ufficiale con questo unboxing concludo un saluto di un marco per androidblog.it grazie a tutti grazie a tutti